Musica Approvata all'unanimità una risoluzione della Commissione Aria Interna presieduta da Marco Nicolai, dove nel caso in cui si erano le regioni a dichiarare in funzione del contenimento del contagio zona rossa alcuni territori, siano previsti in modo chiaro i meccanismi di aiuto e sostegno statale in favore dell'attività produttiva e commerciale di quei territori. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio, perché il Governo Draghi ha previsto in modo più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto. E' chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico e quindi il Presidente di Regione giustamente le ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che proprio nei prossimi giorni, avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra Regione. Si tratta di quasi 100 comuni che in queste ultime settimane sono state interessate, ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori e chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane, dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia e adesso magari l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie, ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti. E' solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato come chiedono, appunto, questi territori. E' anche una richiesta che sta facendo altre Regioni oltre alla Toscana. La proposta di risoluzione nella Commissione Area Interne era volta a trovare sostegni dal Governo per le zone rosse cosiddette regionali, chiamiamole così, per le quali per ora sostegni non ne sono stati dati. E in particolare, queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne, marginali e montane. Noi abbiamo un esempio con la montagna pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia Rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già avvenendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa Commissione, speriamo che il Governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi che la Regione le destini in particolare a queste zone interne marginali. Se il Governo non dovesse darle, si spera che sarà poi la Regione a sopperire a questo. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza a Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo, che i fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di Commissione, che nelle impegnative, qualche volta, si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. Sarebbe un passo in più anche perché nel caso specifico noi andiamo a chiedere al Governo di intervenire da dove la facoltà poi di chiudere in senso più restrittivo viene concessa alla Regione. Quindi nel momento in cui la Regione che mi va a restringere un territorio che da arancione potrebbe rimanere e mi diventa rosso, beh, in qualche modo potrebbe essere chiamata se stessa anche in causa e affiancare quelle che sono le risorse del Governo per aiutare nelle aree interne situazioni che già di partenza non sono, per definizione, agevolate. Per una gestione efficace ed efficiente del Next Generation EU diventa necessario potenziare riqualificare il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa è la convinzione della Commissione per le politiche europee e gli affari internazionali preseduta da Francesco Gazzetti. Così si approva proprio su questo tema una risoluzione all'unanimità. Come Commissione Europa abbiamo messo in campo una serie di audizioni, tra queste anche i vertici di ANCI e UPI che nel cammino di avvicinamento poi alla grande sfida del Next Generation EU ci hanno rappresentato una necessità, ovvero richiamare l'attenzione al fatto che si debba puntare su un rafforzamento e anche su un adeguamento anche professionale del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali. Da qui questa proposta di risoluzione che trae spunto anche da un accordo sottoscritto in sede nazionale nell'ambito dell'azione del Governo e che ovviamente richiama la Giunta a far sì che questo piano approvato dal Governo venga attuato in tutte le sue parti e che si possano costruire anche elementi di condivisione sui territori per capire quali sono le necessità delle pubbliche amministrazioni perché senza una pubblica amministrazione forte abbiamo il sospetto che anche la realizzazione e la concretizzazione del Next Generation EU possa anche avere qualche problema. La Commissione Europa si sta caratterizzando per un lavoro intenso, concreto, fortemente condiviso. Sono molto soddisfatto anche del clima che caratterizza il dibattito interno e anche la qualità grazie ai partecipanti e ai componenti di questa Commissione. Ci siamo trovati ovviamente ad affrontare un tema che sarà un tema assolutamente straordinario e preponderante, quello del Next Generation, al tempo stesso abbiamo già anche in programma approfondimenti sulle questioni legate al nuovo settennato dei fondi europei. Il lavoro non manca ma neanche la nostra volontà di andare avanti. In qualità di Vicepresidente ho aiutato tutta la Commissione alla stessura di questo atto. L'unica cosa è che l'ultimo giorno in Commissione, quando c'è stato il voto durante il quale io mi sono astenuto, è perché c'era stata una comunicazione del Presidente del Consiglio Draghi con l'istituzione di una task force per cui doveva praticamente a scalare task force regione, enti comunali e allora ho chiesto l'astenzione per cercare di capire bene quali fossero le direttive che ci arrivavano appunto dal Presidente del Consiglio, ma ho sottolineato quelle che potevano essere, ritenevo giusto, di dover sottolineare in aula quali dovessero essere secondo me le criticità di questo documento, però abbiamo votato a favore perché ci abbiamo lavorato insieme, per cui assolutamente è una Commissione nella quale stiamo lavorando molto bene, è una Commissione, abbiamo rapporti con Bruxelles, sono venuti in audizione parlamentari che rappresentano la Toscana appunto nella Comunità Europea, perciò cerchiamo di capire quelli che saranno i fondi che arriveranno in maniera diretta, in maniera indiretta alla regione, quelli che saranno appunto i passaggi, i vari bandi che arriveranno attraverso la regione o attraverso addirittura il contatto diretto con Bruxelles, per cui è sicuramente una Commissione che sta lavorando in grande, devo dire, in grande sinergia perché riteniamo che sia fondamentale che questi fondi arrivino alla Toscana, però altresì siamo consapevoli di dover creare una struttura e un metodo di lavoro che possa essere utile per arrivare a investire bene questi fondi che dovranno arrivare. Per quanto riguarda la geotermia, si ha maggioranza la proposta di delibera che modifica il piano ambientale ed energetico regionale per la nuova adozione. Contestualmente è stata revocata la delibera del 7 luglio 2020. Di fatto abbiamo riadottato lo stesso piano del 2020, è stato necessario farlo perché nel momento il PAIR era stato approvato dopo un lungo dibattito anche in Consiglio regionale, era stato adottato nel luglio 2020, nel momento in cui era stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione toscana c'era stato un errore materiale di due allegati che sono stati erroneamente, si è sbagliato proprio l'allegato in pubblicazione, quindi siamo stati costretti a riadottarlo di nuovo, però abbiamo fatte salve le osservazioni che nel frattempo sono state fatte da cittadini, imprese o soggetti interessati. Naturalmente saranno dedotte, controdedotte, però non riparte per quello il termine, cioè non abbiamo riadottato azzerando tutte le osservazioni in essere, ma verranno fatte salve. Questa è una preoccupazione che avevamo avuto come quarta commissione, che abbiamo alla Giunta chiesto di specificare, infatti nell'atto che è adottato è specificato questo. Sì, sugli impianti per la geotermia c'è stato un errore da parte degli uffici, è stato pubblicato il PAIR, il piano dell'ambiente energetico regionale, con degli allegati che tecnicamente non erano definitivi, il che ha costretto a revocare quella delibera e a riassumere oggi la adozione di quella parte di piano che peraltro aveva già avuto molte osservazioni da parte dei comuni, perché i comuni sono molto sensibili al tema, perché naturalmente si tratta di impianti certamente importanti, certamente legati a una forma di energia che non inquina ma che ha un impatto sul territorio e quindi attraverso anche la discussione in commissione abbiamo chiesto che l'amministrazione regionale tenga comunque conto delle osservazioni già pervenute e che soprattutto, siccome si riapre il termine per le osservazioni, coinvolga i comuni in maniera attiva, non limitandosi soltanto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, ma faccia sapere anche ai cittadini, oltre che ai comuni, che si riapre la discussione sui siti non idonei per gli impianti di geotermia. Tra l'altro, e concludo, c'è stata e c'è una discussione molto forte nel Lazio, in Umbria, che ha portato anche a contenziosi rilevanti, perché ripeto si tratta di impianti che comunque hanno un impatto sul territorio e che nel nostro caso, attraverso l'individuazione, delle aree, dei siti non idonei, in realtà però c'è una piccola porticina lasciata aperta, perché questo non esclude che piccoli impianti, quelli che vengono considerati piccoli impianti, cioè al di sotto di una certa potenza, possano comunque essere realizzati e quindi per noi la partecipazione dei cittadini e dei comuni è importante e su questo naturalmente ci siamo raccomandati. La geotermia è sicuramente una risorsa rinnovabile, ma non è lo stesso in tutto lo stivale e non è lo stesso anche qui in Toscana, anche a pochi chilometri di distanza. Tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia, così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nella miata, che è fonte di rischi per la salute ambientale e delle persone, come rilevano i comitati. Ecco perché secondo noi è necessaria una geotermia differente per la miata. Questo naturalmente non significa che l'atto che è stato presentato dall'allora Ministro Costa non sia valido, ma è necessario andare con un approccio sartoriale sui territori. Laddove un certo tipo di geotermia, per esempio quella media, entalpia, non è ritenuta idonea perché presenta dei rischi, lì non deve essere applicata e quello ha ruolo anche della regione toscana, che si è finora rifiutata di fare. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio. La Toscana diventa terra accogliente con gli artisti e offre le loro occasioni per valorizzare il lavoro. Progetto unico rivolto al sostegno di nuove produzioni artistiche e teatrali alla loro circuitazione. L'iniziativa di Toscana Terra Accogliente premia in questa prima edizione cinque compagnie alle quali sarà riconosciuto un contributo economico di 7100 euro, oltre all'alloggio e all'assistenza tecnica per i 40 giorni di residenza in almeno tre strutture RAT. Cinque compagnie vincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. La cultura è lavoro, lavoro per decine e decine di persone che abitano questo territorio e che lo rendono più ricco e bello com'è. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale, nel senso che mette insieme i centri di residenza dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Sieni e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera, gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte, abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri effetti della pandemia. Una risposta, un sollievo ma soprattutto per dire che con la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare e di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e cittadini della Toscana.